Ciao, se stai cercando appunti di marketing condominici del corso di studi alle 18 Economia e Amministrazione Aziendale della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Palermo, sei nel posto giusto perché in questo video ti mostrerò come scaricarli gratis da Appunti Condivisi. Appunti Condivisi è il primo portale in Italia che permette la condivisione tra studenti universitari di materiale didattico, quindi appunti, riassunti, domande d'esame, registrazione a lato delle lezioni, slide, tutto specifico per università, facoltà e corso di studi. Come fai a scaricare questi file? Basta registrarsi su Appunti Condivisi, quindi vai su appunticondivisi.com, clicca in alto a destra nel tasto registrati, crea un account in modo totalmente gratuito, dopodiché clicca su Cerca File e apparirà questa schermata. Dovrai semplicemente inserire l'Università, quindi l'Università degli Studi di Palermo, la Facoltà, la Facoltà di Economia, come corso di studi L18 Economia e Amministrazione Aziendale, come materia Marketing Condominici, Tipologia File, Appunti e cliccare sul tasto verde Cerca. Andando in basso vedrai che ci sono diversi file, quindi appunti Lezione Marketing, Interventi a Lezione 17-18, Lezione Marketing 2017, Lezione Marketing Ottobre 2017, tutti i file che potrai scaricare semplicemente cliccando sul tasto Download. Quindi Download, ecco qui Download. Andando giù puoi cliccare qui sul numero 2 e vedrai altri file, quindi una Lezione Marketing di Novembre 2017 che puoi anche questa scaricare cliccando qui sul tastino Download. Quindi cosa devi fare per scaricare gratis appunti di marketing condominici? Basta andare su appunticondivisi.com, quindi appunticondivisi.com, creare un account in modo totalmente gratuito e puoi scaricare gratis il materiale che ti serve per preparare al meglio il tuo prossimo esame universitario. Ciao e buon esame! Buon esame!